Per la Serie C il Messina affronta il Pescara all'Adriatico, lo scorso anno con le grandi ha sempre fatto il pieno, quest'anno lo vedremo domani a partire dalle 14.30. In Serie D partita tra due squadre con lo stesso punteggio, il Città di Sant'Agata che va all'Ocri, ma non certo come squadra anonima ma come compagine da tenere in grande considerazione visti gli ultimi risultati. In eccellenza Taormina Roccaquedolcese in testa alla classifica giocano in casa contro Real Siracusa Belvedere e Ionica, in casa anche il Milazzo contro il Palazzolo, fuori casa 9 Gea Virtus e Nebrus contro Siracusa e Virtus Ispica. In promozione Girone B domani c'è Aspra Castelluccese, Mistretta Gorgonia Delia, Geraci Castelbuono e Gioiosa Sant'Angiolese. Riposa il Pro Falcone. In prima categoria Girone C domani giocano Castellana Futura, il derby di Petralia, Sottana contro Soprana, Real Casale Rosmarino e Tortorici Aluntina. Nel Girone D comprensione del Tindari Galatis, Farandina Monforte, Stefano Catania Sinagra, Torre Grotta Rodimirici e Folgore Milazzo Aquila. Infine in seconda categoria Fitalese Juveniglia, Vivi Don Bosco, Don Peppino Cutropia, Pollina Finale Rometta Marea, Nuova Peloro Termevigliatore, Provinciale Alcara, Riposa il Pettineo.